Ogni sabore, avulace, ogni sabore... Solo la forza della fede, la forza della misericordia può guarire certe ferite e permette a chi ha subito violenze o soprusi di pronunciare la parola perdono in condizioni umanamente impossibili. E dove alla violenza si risponde col perdono, anche il cuore di chi ha sbagliato può essere vinto dall'amore che sconfigge il male. Papa Francesco lo dice al termine dell'Omelia della Messa per il Giubileo dei Carcerati, presenti circa mille detenuti, ma nel cuore ha tutte le persone incontrate nelle sue visite nelle carceri, da Poggio Reale a Napoli, a Filadelfia, fino al penitenziario di Ciudadio Juárez, in Messico. Tra vittime e colpevoli, spiega, Dio suscita autentici testimoni e operatori di misericordia, come le persone che hanno parlato in Basilica prima della Messa. Daniel ha iniziato un percorso di recupero. Ho trovato in comunità delle persone che non mi hanno giudicato per quello che avevo fatto. Per loro non ero il ragazzo che aveva sbagliato, ma ero Daniel. Io la misericordia l'ho sperimentata, la vivo sulla mia pelle. Se non ci fossero state delle persone misericordiose con me, forse oggi io non sarei qui a raccontarvi queste cose. Elisabetta è una madre alla quale è stato ucciso un figlio di 15 anni e Ciro un ergastolano che in carcere ha incontrato il Signore. Si sono incontrati nell'ambito di un programma di giustizia riparativa. Riuscì finalmente a interrogarmi su quanto quelle persone sarebbero state diverse se fossero vissute in contesti meno disagiati o magari se non fossero state abbagliate da falsi itali, quali la ricchezza o il potere. E attraverso di loro, con l'aiuto dei prigionieri, mi liberai finalmente di ciò che ero e che non sarò mai più. Una madre che dentro di sé covava solo odio e rancore. E cercando di donare un po' di luce, ne ricevo molta di più di quanta ne riesca a dare. Ed è in quella luce che il dolore si placa. Elisabetta era entrata in carcere per gettarci in faccia tutta la sua rabbia e il suo dolore. Ma ha scoperto la nostra sofferenza. Ha riconosciuto in noi il suo stesso dolore. Per motivi differenti, ma con identico strazio. Noi avevamo visto la nostra vita andare in pezzi. Il dolore non ha colore. Non è né buono né cattivo. Il dolore è dolore. Al suo ingresso in Basilica, Papa Francesco è accolto dalla commozione dei carcerati, ex detenuti, familiari, operatori, cappellani e agenti di polizia penitenziaria. Accanto all'altare è esposta la statua della Madonna della Mercede, protettrice dei prigionieri. Commentando la parola di Dio, il Papa sottolinea il messaggio di una speranza che non delude. È un dono di Dio, spiega, dobbiamo chiederla con la certezza della sua presenza e della sua compassione, nonostante il male che abbiamo compiuto. Non esiste luogo nel nostro cuore che non possa essere raggiunto dall'amore di Dio. Dove c'è una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più presente la misericordia del Padre, per suscitare pentimento, perdono, riconciliazione, pace. Una cosa aggiunge è ciò che meritiamo per il male compiuto, altra cosa è il respiro della speranza che non può essere soffocato. Il Giubileo porta con sé l'annuncio della liberazione, ricorda il Pontefice, che la Chiesa non può concedere, anche se non può rinunciare a suscitare nei detenuti il desiderio della vera libertà. A volte una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l'unica via è quella del carcere. Io vi dico, ogni volta che entro in un carcere mi domando perché loro e non io. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare. Tutti, in una o altra maniera, abbiamo sbagliato. E quell'ipocresia fa che non si pensi alla possibilità di cambiare vita. C'è poca fiducia nella reabilitazione, nella reinserzione nella società. Eppure tutti siamo peccatori e prigionieri, chiarisce il Papa, dei nostri pregiudizi, dell'individualismo e dell'autosufficienza. Per questo nessuno davanti a Dio può considerarsi giusto, come nessuno può vivere senza la certezza di trovare il perdono, rinchiuso nel proprio passato. Imparando dalle sbagli del passato si può aprire un nuovo capitolo della vita. Non cadiamo nella tentazione di pensare di non poter essere perdonati. Qualunque cossa, piccola o grande, il cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore. Poco più tardi, dopo la recita della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco lancia un appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri di tutto il mondo e per l'adozione di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla prospettiva di reinserire il reo nella società. In modo speciale sottopongo alla considerazione delle competenti autorità civili di ogni Paese la possibilità di compiere, in quest'anno santo della misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento.